Il bando triennale per il verde pubblico di Piacenza, aggiudicato a metà maggio, ha il fiato corto. Un bando che era nato tra mille polemiche per i gravi ritardi nella procedura di gara con la conseguenza di un effetto giungla in prati, campi giochi, aiuole e cordoli verdi cittadini. Ora Palazzo Mercanti corre ai ripari pensando a un nuovo bando da 345 mila euro per le manutenzioni soprattutto delle alberature, dal momento che per questo specifico aspetto la dotazione finanziaria dell'appalto in essere si sta già esaurendo. Ma anche sullo sfalcio dei prati le risorse iniziano a scarseggiare. La necessità di nuovi fondi emerge dal provvedimento firmato in questi giorni dal dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici che annuncia nuovi appalti per l'affidamento di tre interventi, il ripristino del decoro delle aree verdi comunali di Via Millo e intorno a Palazzo Farnese, la manutenzione ordinaria di siepi e alberature e il diserbo meccanico per il periodo 2019-2020, l'ispezione delle attrezzature ludiche. Si tratta, spiega il provvedimento, di lavori non previsti dai contratti siglati a metà maggio con gli aggiudicatari del bando triennale, i cui due lotti erano andati alla Cop di Al Seno l'Orto botanico per 1.200.000 euro e all'accordata lombarda formata da Cuore Verde, Suardi e Riva Giardini per 1.800.000 euro. In realtà in quell'originario capitolato di gara, che in effetti era stato descritto come esaustivo degli interventi di manutenzione ordinaria, c'è l'esplicita menzione tanto di Palazzo Farnese quanto di alberature, diserbi meccanici e ispezioni alle attrezzature dei campigiochi.